bello ragazzi sono Peach e ben ritrati in questo nuovissimo video reazione ai canali raga questo è il terzo episodio e raga abbiamo veramente un sacco di link ovviamente non lo regirò a tutti perchè c'è sono tantissimi ragazzi quindi raga allora se avete un canale youtube basta che me lo mandate mandate il link su instagram trovate il link in descrizione anzi lo trovate qui vedete questo coso che compare e scompare grazie luca che me l'hai fatto e quindi raga allora io direi di iniziare subito con il primo canale quindi come sempre ricordo lasciare come è la solita cagata lì e niente raga io direi di iniziare subito con il video allora raga apriamo il primo canale e troviamo il signor guardiamo chi è Price ok allora ci siamo allora banner non mi piace molto perchè hai scontornato le cose poi le hai messo del bianco a lato c'è del bianco non mi piace allora poi miniature random skin challenge epica questa miniatura mi pare che non l'abbia fatta tu comunque è bella complimenti se hai fatto tu come sempre l'hai di supporto ciao a tutti ragazzi e ragazze adesso tornate in questo nuovissimo video mille iscritti ho mille follower andrò a attivare il mio supporto a un creatore su formite quindi mi hai ricordato questa cosa raga allora mi hanno dato finalmente i code creators quindi raga se volete supportarmi come un creatore questo gigante che compare sullo schermo è il mio code creator quindi raga usatelo perchè è bellissimo quando lo usate taggatemi in una storia se comprate qualcosa sempre semplicemente lo mettete e io vero posto quindi grazie per chi lo fa quindi vediamo allora non torniamo a 14 punti quindi non male cioè dipende se lo classificano come noob vediamo allora vediamo un po' ok arriva un tipo mamma mia ragazzi mamma mamma mia quanto ha missato quanto ha missato questo ragazzo allora editing non ce n'è tanto perchè non zoom però non stai malaccio allora guardiamo intervista doppia con johnny speciale a 400 iscritti salto di ragazzi come vedete ho la mano rotta ma nonostante questo siamo sempre su youtube ragazzi c'è un tanto rumore di sottofondo allora io non ti do il qualitoso ragazzi perchè c'è più bello qualitoso basta lo ruba dal clash non ti do il qualitoso ma puoi migliorare veramente un sacco quindi niente raga passiamo al prossimo canale ok raga eccoci qui con il secondo canale allora miniature già mi piacciono il banner ci sta il logo ci sta qua c'è anche intervista a pc gamer si raga mi ha fatto un'intervista quindi reagiremo a quella ragazzi io sono il shiny e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui per intervistarmi uno youtuber un po' scrauso grazie allora oggi siamo qui per fare un'intervista a pc gamer non chiedertimi perchè solamente che non avevo voglia di fare niente allora ho preso sto qua perchè è l'unico che mi ha risposto su instagram rip poi abbiamo iniziato a fare video da pc o le live soprattutto ma perchè c'era il coso di obs che si spostava ma aspetta un attimo ma lui in questo momento qui sta registrando obs aspetta cioè lui praticamente sta registrando obs non sta registrando cioè non è che si faccia una registrazione schermo cioè lui praticamente sta registrando la finestra di obs perchè se vedete qua c'è la freccetta quindi ma vabbè soprattutto come mi hai deciso di aprire un canale youtube allora vedi respiri le parti noiose e non le tagli quindi ti consiglio di tagliarle è il primo video che ho fatto che poi non ho mai pubblicato o praticamente avevo la sedia con la vecchia che ho sfondato in live perchè avevo tirato un pugno è vero e avevo preso 25.000 dizionarie le avevo messi sulla sedia le avevo messo così il telefono in coda vai vai perchè hai tagliato da una domanda all'altra non capisco trailer shane like come sempre di supporto allora shane io non ti do il colitoso perchè so che puoi migliorare molto di più c'è molto più edit del canale di prima e quindi raga passiamo al prossimo canale comunque raga lo sapete che è arrivato il nuovo mouse che è logitech g502 raga molto bello molto bello raga ok prossimo canale è col boss col boss allora allora canali qualitosi ci sono io grazie chi è che ha più iscritti alla miniatura non sono male like come sempre di supporto ma buonasera green screen lo usa quindi editing c'è il problema è che la qualità della videocamera senza offesa è veramente schifo però vabbè lasciamo stare allora chi è che ha più iscritti tra marcus cron o bella faccia non so chi sia mettiamo marcus cron un nome più da duro infatti abbia sbagliato poi abbiamo giorgio cappello di paglia o fatte in casa da benedetta fatte in casa da benedetta penso fatte in casa da benedetta anche perchè giorgio che è il mio nome cappello di paglia che ce l'ho al mare il cappello di paglia non so che cosa sia però boh mi sta simpatico giorgio cappello di paglia allora editing ci sta devi migliorare un po' la qualità della videocamera quindi banner bello logo ci sta ti consiglio c'è una roba il logo fallo con lo stesso colore del banner sennò viene un po' bruttino allora le miniature ci stanno quaditoso bravo tu mi piaci prossimo canale raga ok raga allora eccoci qua con il terzo canale eccolo qui liverk06 allora logo non è male banner molto figo ci sta miniature ok ok non sono malissimo sempre finale ma è vittoria fall guys guardiamo test audio incredibili da chi l'hai copiato pa pa ok allora editing c'è raga editing c'è mi piace già questo liverk06 bella raga sono liverk06 e vendor allora ho visto adesso power director allora editi veramente bene con power director però bro ti consiglio di prendere un pc e scaricarti filmora perché filmora è molto bello oppure se vuoi passare a una cosa più complicata fai premiere direttamente che puoi fare tutto tipo non lo so posso prendere tipo un cavallo prenderlo e spost... no 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 faccio un cavallo le spostare di là puoi fare lanciarlo e adesso è tipo di là capito puoi prendere un pomodoro e fare così e mangiarlo più o meno puoi fare un po' tutto capito questo nuovo video di questo gioco brutto oggi siamo con un ospite che è la prima volta che appare sul mio canale ed è ancini 0508 chiamato se non parli 008 vi lascio il suo canale in descrizione andate ad iscrivervi giù allora già che fai video da playstation con videocamera separate così significa che editi veramente molto allora raga se fa live con la videocamera gli do il qualitoso live con cam da playstation perché comunque non ha un pc però giuro e quindi niente raga io mi sento di dargli il qualitoso a questo ragazzo migliore mi raccomando prenditi un pc in futuro perché sei bravo e hai qualità quindi raga iscriviti tutti a liverk06 niente raga passiamo al prossimo canale ecco qua raga il quarto canale mi pare che è lore c***o mi ha mandato il tuo canale che se siamo nella crew insieme ci sarà un motivo no ok raga allora eccoci qua al vero quarto canale che è lui il quarto vero canale devo reagire guardiamo se è un canale vero ok è un canale vero ok c'è un canale che non conosco allora miniature non sono male ci stanno allora banner ci sta non è male carino logo ci sta non è male carino che sta guardando questo video ti saluto molto molto ciao e anche this is juice ciao ragazzi vi la deve ricordo lei di supporto come sempre oh raga oh mio dio cioè praticamente lui aveva 8 like insieme a me ma se lo stesso like è una nuova il canale attivare bene che incredibile cosa questo video ciao ma è tornato blanche ma perché mi segui dovunque tu siamo moltissimi ragazzi leggetelo in chat anzi i due non in chat ti consiglio come nello scorso video di mettere il bianco e nero senza canzoni di sottofondo mi raccomando però allora editing c'è e non c'è allora guardiamo come è che è fatto un unicorno o almeno così sono quelli che allevano com'è che è fatto un unicorno cinque bocche ok sette ali sette ali ok ok nove corni nove corna ok si eh che cazzo vuol dire poi dove hey gente benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo tornati su rocket league però questa volta faremo delle partite normali perché sinceramente fare sempre che racconto le mie avventure è un po' che non gioco a rocket league quindi sarà un po' scarsetto però fa niente sì però questi sono meno noto so meglio che ci posso fare sono più scarso del solito oggi non mi ricordo più come si gioca no vabbè che casino allora non sei male editare io comunque ti consiglio di comprarti un pc come quel raga consiglio a tutti perché il pc è la salvezza dello youtuber quindi allora non mi sento aiutarti il qualitoso però migliora e poi rimandami il canale in futuro quindi raga prossimo canale ok raga allora eccoci qui nell'ultimo canale di oggi allora banner non è male dovresti magari prendere le foto spostarle o un po' più a lato oppure prendere anche le braccia e così reagisco ai youtuber che hanno reagito al mio canale aggiungimi a questa lista mi raccomando le miniature devi farlo un po' più belle ma ci stan fasomofobia su roblox guardiamo porca troppo mi son cagato addosso ci siamo su fasomofobia però visto che sono povera ovviamente siamo su roblox ho trovato ti passo io la crack no mi dissocio non si fa questa mappa di nome paranormica buo vabbè like di supporto come sempre quindi bisogna trovare degli indizi che ti portano a capire di che tipologia è il fantasma quindi se è uno spirito se è un ghoul se è un demone vogliamo collaborare perché siamo in 5 quindi ognuno e dite in graga cioè io ti consiglio di però fare molti più zoom nella intro sulla faccia e magari fare non lo so qualche zoom di avanti e indietro quando fai la intro tenete la faccia zoomata mi raccomando perché è un tocco molto molto figo ognuno deve avere cioè non dobbiamo avere cose tutte uguali e le mefe le prendo io 5 mamma mia ma potete venire con me ho capito che devo fare un minchia di video però se venite con me ho paura aveva troppo ridere le sue urla secondo me lei è nordica è come me di Brescia o Veneta o comunque ma scusate una domanda ma i tuoi genitori non ti spaccano la faccia se urli così i miei mi spaccano se inizio a urlare così va di cosa succede allora è molto simpatica i video scornano bene come video quindi ci stanno allora reagisco ai youtuber che hanno reagito al mio canale che fa andava di moda qual è il mio iscritto con più iscritti o se no reagisco ai canali dei miei iscritti ecco tra questi youtuber che hanno fatto questa tipologia di video ci sono anch'io io sono in questi video niente ragazzi oggi siamo qua per reagire agli youtuber che hanno reagito a me tipo vedi questo zoom che torna indietro non ha senso perché tu zoom da mezzo a fuori quindi non ha molto senso primo youtuber direi di guardare alle clash 96.000 iscritti ragazzi questo youtuber sta crescendo in un modo incredibile c'è troppo troppo sta crescendo confermo se voi adesso in questo momento rispirate lui cresce di 100 milioni di iscritti allora mi stai simpatica e sei brava di editare quindi io ti do il qualitoso quindi raga root iscrivetevi tutti piano allora quindi raga iscrivetevi tutti e niente raga io direi di passare su quindi raga io direi di stare oh ma non ce la faccio io direi di io direi di passare subito al prossimo canale ma che cazzo sto dicendo che è finito il video ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre vi ricordo di lasciare un bel pollice un iscrivetevi al canale lasciare un commento al prossimo video reagirò ad altri canali esattamente 5 no 4 non so quanti cazzo reagiti comunque reagirò ad altri canali raga vi ricordo di mandare il vostro link instagram instagram il vostro link youtube e niente mandatelo su instagram ci vediamo nel prossimo video bella campioni ciao 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 Grazie a tutti.